bentornati sul canale oggi voglio parlarvi di come navigare da casa con una sim della team ci sono due strade per ottenere questo scopo il primo è quello di avere una sim della team con un piano dati già attivo il mio consiglio è quello di prendere una sim di un altro operatore e fare la portabilità in team quello che ho fatto io nella sekeda che vedrete nel corso del video il secondo è quello di avere a casa una linea con team quindi una linea classica per la funia domestica con team che però abbia la debito su conto corrente ora vediamo innanzitutto il primo modo e poi il secondo modo nel sito della team non troveremo un'offerta dedicata per la navigazione in 4g però si può raggiungere ugualmente lo scopo ora vi mostro come si fa innanzitutto occorre che voi abbiate una sim attiva come potete vedere questa è la mia sim personale io ho l'opzione la team still s e avevo 47 giga di traffico gratuito che mi erano stati regalati con la portabilità questa è una sim ricaricabile quindi con la team still avevo ogni mese 3 giga di internet mi venivano regalati 47 giga di dati mensili quindi l'offerta che ho io è un'offerta che si ottiene con la portabilità dove da un piano base dati di 3 giga ti vengono regalati 47 giga per un totale di 50 giga mese allora quando noi abbiamo una sim attiva della team e abbiamo al suo interno un piano dati già compreso possiamo andando ad accedere al praticamente portale della team quindi andando a digitare su browser my team punto it oppure scaricando l'applicazione della team accediamo a quello che è il nostro profilo sostanzialmente all'interno dell'area clienti all'interno dell'area clienti sono presenti sempre delle offerte che a volte vi compaiono anche a video però se noi andiamo praticamente a cercarli sul l'angolino offerte per te vediamo che la team costantemente fa delle offerte allora le offerte cambiano di mese in mese cambiano anche i nomi però tendenzialmente sono sempre queste se non avete la giga illimitati white avrete la giga illimitati green e la super giga rimangono invariate se non avete la giga illimitati silver avrete la giga illimitati gold la differenza qual è che la green costerà 9,99 invece che 4,99 e la gold 19,99 invece che 14,99 allora la giga illimitati white in sé è una buona offerta però non va bene per navigare da casa e vi spiego anche il perché innanzitutto la velocità è limitata a 30 megabit per secondo quindi anche se avete una bts libera vicina non andrete a più di 30 mega e i video sono in qualità standard il che vuol dire che tutto quello che andrete a guardare sarà in qualità standard quindi video su youtube video su netflix video su prime video e non è il massimo è vero a 0 euro di costo di attivazione 4,99 al mese sempre su ricaricabile stiamo parlando ovviamente quindi non avrete bollette non avete niente di particolare l'opzione si attiva in 48 ore quindi è molto veloce c'è da dire una cosa ed è per questo che non ve la consiglio sulle specifiche del contratto viene indicato che la giga illimitati white è dedicata a un uso esclusivamente da smartphone oltre al fatto che prevede la qualità in sd quindi io non vi consiglio di fare questo tipo di opzione se volete navigarci da casa anche perché il limite a 30 mega in download non è proprio il massimo è vero che abbiamo una classe di priorità come dicono loro maggiore rispetto alla rete 3g ma la rete 3g entra fino all'anno verrà spenta quindi questa priorità lascia molto il tempo che trova andando a guardare meglio comunque le specifiche del contratto bisogna stare attenti perché come vedete viene specificato che al superamento dei giga inclusi nell'offerta pagheremo dei soldi per i mega che andiamo a consumare ma uno si domanda ma questi giga non erano illimitati in realtà come al solito al di là delle specifiche sul fatto del buon uso il modo lecito e la buona fede di noi che andiamo a utilizzare l'offerta se andiamo a guardare la parte ultima del contratto c'è proprio scritto che per i piani o promozioni che prevedono il traffico dati inclusi illimitato in realtà questo traffico dati illimitato è 600 giga mesi ora c'è da fare una specifica questi 600 giga mesi si andranno a sommare al bundle di dati basi che già voi avevate e quel bundle di base dati vi serve per poter poter attivare queste offerte giga illimitati quindi nel mio caso saranno 650 giga l'opzione migliore è la giga illimitati silver o gold se avete la silver se vi viene offerta la silver costa qualche soldino in meno perché costa 14,99 la gold costa 19,99 ma il tipo di offerta che vi viene proposta la decide l'operatore lo decide team quindi io su quello non posso fare niente innanzitutto vediamo qual è la differenza abissale la giga illimitati silver innanzitutto ha una velocità che va fino a 150 mega in download e fino a 75 mega in upload ora qui non è riportato però come vedete il costo di attivazione è sempre zero il costo ricorrente è 14,99 al mese sempre sotto ricarica e come vedete qua l'offerta giga illimitati prevede la fruizione dei video in qualità HD quindi vediamo la classe è 150 in download e 75 in upload abbiamo sempre la priorità rispetto al 3G ma qui a differenza della giga illimitati white non c'è il limite che deve funzionare da smartphone e quindi la potete tranquillamente mettere sul router oppure su un telefonino e fargli fare da hotspot e sfruttarla per la vostra connessione domestica che è una cosa che vale perché alla fine con 14,99 abbiamo i nostri gigi illimitati illimitati siamo chiari come al solito anche qui ci viene specificato che oltre al fatto che dobbiamo avere un uso personale eccetera il limite è 600 giga mese quindi voi avrete il vostro piano dati che sarà non lo so 50 giga o anche 3 giga perché c'è anche i piani basi da 3 giga ai quali aggiungerete questi 600 giga che sono roba cioè nel senso 600 giga è tanto io che uso tanto internet siamo due in casa non li ho mai consumati ma neanche la metà però diciamo che dovete saperlo il limite è 600 giga questo è il dato di fatto l'altra offerta che potrebbe interessare alcuni di voi è praticamente l'offerta TeamX per Te Unlimited qual è il concetto e qual è la differenza fondamentale a parte il costo che costa 10 euro di più della Silver sostanzialmente abbiamo l'accesso alla nuova tecnologia 5G e quindi sostanzialmente a parte il fatto sì abbiamo 14 giga all'estero sulla Silver ne avevamo 9 e sulla White ne avevamo 3 ma qui parliamo di una SIM che verrà utilizzata per una vangificazione domestica quindi l'estero penso che ci interessi relativamente poco allora innanzitutto la Limited Pro non può funzionare come ricaricabile cioè funziona come ricaricabile ma solo con addebito su carta corrente o conto corrente bancario quindi sostanzialmente è solo con la ricarica automatica attiva e quindi io personalmente ve la sconsiglio poi vi dirò anche il perché abbiamo la velocità in 5G fino a 2 giga dove c'è il 5G e la velocità in 4G e mezzo fino a 700 MB in download può essere utile? non lo so il punto qual è? che comunque sia è vero abbiamo Team Music che c'è compreso all'interno della promozione che è gratis per sempre abbiamo 3 mesi di Team Games attivo sempre all'interno della promozione anche su questa promozione qua non c'è il limite di utilizzo della SIM solo ed esclusivamente sullo smartphone però sostanzialmente come dicevamo il problema qual è? che questa SIM non funziona come ricaricabile ciò dovete per forza fare la ricarica automatica o l'addebito su conto corrente e magia delle magie come sempre abbiamo 600 GB al mese di traffico dati massimo disponibile perché vi sconsiglio di fare questa opzione se avete intenzione di fare l'addebito sul conto corrente per capire perché non vi consigliamo quell'opzione là il secondo metodo si chiama Team Unica allora innanzitutto cerchiamolo sul sito della Team Team Unica cosa fa? allora innanzitutto Team Unica è disponibile solo per coloro che hanno una linea fissa quindi una linea domestica su rete Team primo requisito quindi basta avere Team in casa tua secondo criterio necessario è che dobbiamo scegliere di pagare in bolletta quindi dobbiamo domiciliare la bolletta della linea di casa e le SIM ad essere associate su conto corrente o carta di credito fatto ciò possiamo attivare fino a 6 SIM della Team che si vanno a ricaricare sono ricaricabili che però vanno a pagarsi diciamo sulla nostra bolletta di casa e queste 6 SIM avranno tutte 6 gigi limitati quindi è per questo che io non vi consigliamo l'opzione da 24 euro se voi avete perché comunque c'è anche su quella l'addebito su conto corrente o su carta di credito a quel punto vi conviene fare una linea della Team e potete attivare fino a 6 SIM che oltre avere i minuti e i messaggi illimitati avranno i gigi illimitati il taglio sarà sempre i 600 giga a mese però per navigare da casa potenzialmente ne potremmo fare addirittura 6 considerate che ovviamente il costo della SIM andrà sempre pagato quindi ipotizzando che avete un'offerta di portabilità della SIM che pagate 7 euro al mese per dire sulla vostra SIM è vero che avrete l'opzione gigi illimitati ma quei 7 euro per il credito della SIM verranno sottratti ogni mese dalla vostra bolletta cioè nella vostra bolletta avrete ipotizzo 45 euro per la linea della Telecom più i 6 euro per ogni SIM che avete attiva con quell'opzione però avrete i gigi illimitati e sostanzialmente tirando le fila per concludere il video ci sono due modi per avere una SIM della team per poter navigare da casa o una ricapricabile standard che si può fare anzi vi consiglio di farla dopo aver fatto portabilità che così avete un bando dati di partenza al quale aggiungere 600 giga che avranno un costo che potrà variare ma solitamente è intorno ai 15 euro al mese se siete sfortunati 19,90 mese oppure se avete la linea team a casa create l'addebito sul conto corrente e potrete fare fino a 6 SIM ognuna delle quali potrà avere 600 giga mese per poter navigare su internet ovviamente le SIM di team unica hanno lo stesso taglio e lo stesso bundle della team giga silver o della team giga gold quindi niente questa era l'idea per poter navigare da casa con la team nel prossimo video proveremo a navigare con una SIM della team e proveremo l'FWA della team coordinato e me lo danno in consegna per martedì vediamo come vanno non vi aspettate risultati enormi di velocità perché va come va a casa mia e spero che vi piaccia il mio lavoro spero che vi piaccia il mio canale e vi invito ad iscrivervi grazie e alla prossima